Senti se, come direbbe Melli, senti se, alla grande, aspetta lì, se facciamo... Alla base da primizia, a me ce l'ha perso pure questa. E vabbè, adesso però bisogna perfezionarla, pure Luigia Luciani all'inizio era tipo un ranocchio. Adesso è perfetta, perché abbiamo mandato il nostro buresta, manderemo anche a te il nostro tecnico. No, io non la voglio pure, io voglio nessuno del tuo cazzo. Come? Ma guarda che lui è accertatamente sano e libero. No, 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 non c'è parlamento sano e libero di persone che conoscevo io pure. Di buona e robusta Costituzione, ma che stai a dire? Ma questa va una meraviglia. Poi pure sta una protezione particolare, quella del superiore, quindi. Il distanziamento pansale. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Allora comunque rifacciamo, rifacciamo, aspetta. Max puoi ripartire dalla sigla, così ripartiamo che io mi carico, capito? Vai mattino a Sport News, insomma adesso parte la sigla, vai, vai.